Amici della Terra, Comitato per la Salvezza della Pineta, La Voce degli Alberi, Italia Nostra e Lipu hanno presentato un esposto contro il taglio dei pini in corso in via Savi. Le associazioni hanno preso carta e penna e si sono rivolte alla Procura della Repubblica, ai Carabinieri Forestali, alla Soprentendenza e al Comune di Viareggio per segnalare una serie di irregolarità relative all'intervento. La perizia fatta dal Comune di Viareggio per giustificare il taglio di tutti i pini evidenzia che su 20 pini solo due erano nocivi, diciamo pericolosi, in fascia D, gli altri 18 no. Inoltre c'è una questione sostanziale, l'ordinanza dirigenziale non rispetta il piano paesaggistico. Italia Nostra potrebbe portare la battaglia contro l'intervento in via Savi anche all'attenzione della Corte dei Conti. Su 20 pini di questa età e di questa grandezza, se consideriamo un valore di 30.000 euro e un valore medio, diciamo, il danno erariale che noi riteniamo ci possa essere sono circa 600.000 euro. Le associazioni contestano anche la sostituzione dei pini con gli oleandri prevista dal progetto del Comune, segnalando che questa non rispetterebbe le misure di mitigazione stabilite da una sentenza del Tribunale di Torino lo scorso maggio. Il provvedimento prevede che gli alberi di grandi dimensioni debbano essere sostituiti da piante dal fusto di almeno 4 metri di altezza e 25 centimetri di circonferenza.